Anticipazioni Love is in the Air, puntata di domani 16 novembre. Che cosa accadrà tra Eda e Serkan? Lei dirà tutta la verità. Ma scopriamo nei dettagli che cosa succede e vi ricordo che la puntata entra in onda domani alle 16.55 su Canale 5. Eda aveva leggermente recuperato la fiducia nel rapporto con Serkan Bolat, ma questa notizia, cioè quella della gravidanza di Selin, la getterà nello scomporto. Soltanto le sue migliori amiche, Jeren e Mello, cercheranno di tirarli sul morale, ma nulla sarà come prima, anche perché Eda ha promesso a Selin di mantenere il segreto. Nel frattempo Aidan si farà convincere dal suo maggiordomo Sefi a chiamare Kemal. La donna accetterà così di incontrarlo. Anche l'uomo parteciperà a questa cena di famiglia che avverrà proprio nella casa della zia di Eda. Ma cosa succederà? Tutti staranno lì in questa cena e esisteremo finalmente a questo segreto della gravidanza di Selin che verrà svelato. A tavola tutti saranno sereni, si chiacchiera, si ride, si scherza, tranne però Eda. Eda è seria e pensierosa e così Serkan chiederà di andare in bagno, ma andrà nella stanza proprio di Eda. La ragazza entrerà nella sua camera e lui la segue. Ci sarà un confronto tra Eda e Serkan. Lui cercherà di persuadere Eda dai suoi cattivi pensieri, ma non ci riuscirà. Eda è stanca di mentire a Serkan. Così, tornate a tavola, le cose però andranno sempre peggio. Eda dichiederà di non poter più frequentare Serkan. Non vuole assolutamente più avere a che fare con lui. Ovviamente Serkan Bolat si arrabbierà tantissimo e vuole sapere che cosa sta succedendo. A questo punto Eda gli dirà la verità. Succede che Selene è incinta e il padre del bambino sei proprio tu. Tutti quanti rimarranno di stucco, nessuno riesce a dire una parola. Serkan però negherà assolutamente di essere lui il padre del bambino. Correrà immediatamente da Selene per scoprire tutta la verità. Questo e tanto altro nella puntata di domani di Love is in the air.